È una grande emozione, sul momento ero un attimo stordito, poi ho visto che la palla dopo il palo è entrata, è stata una grande emozione, sono molto contento più che per il gol e per l'importanza di questo gol. È una partita difficilissima contro una squadra tosta, solida, in cui eravamo anche in un momento di difficoltà, l'espulsione magari ci ha dato una mano, però era comunque una partita difficile e portare a casa tre punti era veramente fondamentale. Un gol atipico per le mie caratteristiche, sì, un uno contro uno non è andato come speravo, ma comunque era un momento delicato della partita, un momento difficile, ci aspettavano bassi, chiudevano gli spazi, era difficile provare a sgusciare via. Mi è venuto, ho letto che secondo me la palla poteva arrivare lì, ho accelerato provando a prendere il tempo al difensore, è andata bene, la girata è andata bene. Senti sì, ti dobbiamo liberare, dedica il volo. Alla mia ragazza, alla mia famiglia e anche ai miei amici, dai.